Free! We Bear Bears! Siamo solo orsi! Tra poco, su Cartoon Network! Giocando al ruscello, affronterai le onde più alte. Attraverserai i venti più pericolosi. E combatterai perfino la potenza del fuoco. Tutto è possibile con l'immaginazione di un ragazzo del ruscello. Craig, nuovi episodi. Dal 22 marzo tutti i giorni alle 18.25 nel Triple Fun su Cartoon Network. Video! Dai più ritmo al tuo mondo. Crea e condividi fantastici video musicali con Lego Video. Scarica subito l'app, ma chiedi prima ai tuoi genitori. Ecco fatto! Vietato ai grandi. Wow! Le mucche fanno mu? Ma una fa mu mu! Merenda al latte con le macchie? Super golosa? Super cremosa? Vaniglia! Ciocco! Ciocco vaniglia! La fatta mu mu! La merenda felice è mu mu solo da cameo. Vince ogni giorno una fantastica casetta mu mu e cinque tablet ad estrazione finale. Sveglia! Le crocomagie Topolino sono già in tavola. Le crocchette di patate divertenti fuori. Buonissimo! Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Vieni, vediamo come te la capi. Ci penso io. Seguimi, seguimi. Ok. Una stella! C'è una stella verde lì! Guarda i conigli! Vieni, vieni! Ecco, è compreso! Ci sono, ci sono, arrivo. Ed ecco la stella! Bravo, papà! Il nuovo Super Mario è solo su Switch. Super Mario è solo su Switch. Il nuovo Super Mario è solo su Switch. Ciao!